I vertical spread con le opzioni. Salve a tutti, Marco Casario qui e benvenuti a questa nuova lezione. Siamo finalmente arrivati a parlare di strategie con opzioni a più gambe. Che cosa si intende per gambe? Gambe si intende la posizione che si prende su una opzione. Finora che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto solo nelle nostre lezioni solo strategie ad una gamba. Cioè abbiamo visto che cosa vuol dire comprare put o call. Abbiamo visto che cosa vuol dire vendere put o call. Ma non abbiamo messo insieme più di una combinazione di questi posizionamenti. Beh ci sono moltissime strategie con le opzioni che ci permettono di affrontare praticamente tutte le condizioni di mercato. Oggi voglio introdurvi i vertical spread. In particolare i vertical spread possono essere sia per una visione sia quando avete una visione non ribassista. Ed è importante questa terminologia. Non ribassista del sottostante o non rialzista. E oggi andremo a vedere in particolare la vendita dei vertical spread. E sappiamo che cosa vuol dire quali sono i vantaggi che abbiamo nel vendere. Quando vendiamo incassiamo il premio. Ricordatevelo sempre questo. E facendo ciò e quindi si tende a utilizzare queste strategie soprattutto quando la volatilità non è troppo bassa. Perché se la volatilità è bassa quando vendiamo anche il premio che otteniamo è basso. Quindi potrebbe il rischio sull'investimento potrebbe non essere adeguato. Il cosiddetto return on investment. Gli americani lo chiamano il ROI. E perché vi faccio vedere questa strategia. Perché questa strategia in questo momento storico l'ho utilizzata molto. L'ho utilizzata in particolare con una visione non rialzista di un sottostante. Il Nasdaq in particolare. Perché è ormai un mese e mezzo forse qualcosa di più che sta scendendo. Per varie condizioni sia dal punto di vista macro che dal punto di vista tecnico. Non vogliamo entrare in questi aspetti ma voglio andarvi a spiegare subito questa strategia. Innanzitutto questa strategia consiste nel vendere una opzione out of the money. Ricordate out of the money e in the money. Questa strategia vende un'opzione out of the money e compra contemporaneamente con la stessa scadenza. Importante questo stessa scadenza. Compra un'opzione che è ancora di più out of the money. Quindi è ancora più distante dallo strike. Che ci permette di fare questa impostazione? Beh innanzitutto di eliminare il rischio potenziale a cui ci esponiamo. Perché sia il rischio che il massimo guadagno sono già settati all'inizio. Quindi è molto utile nella diciamo nella gestione del money management del nostro capitale. E un altro vantaggio è che la marginalità richiesta dal broker diminuisce. Perché rispetto ad una vendita nuda? Un sell call o un sell put? Perché? Perché l'acquisto dell'opzione con la stessa scadenza ci copre. Quindi il broker sa che non siamo più nudi cioè esposti solo sul versante della vendita ma siamo coperti grazie all'acquisto a stessa scadenza ma con uno strike un po' più alto siamo coperti dal buy, put o call a seconda della strategia. Quindi passiamo subito al grafico senza come vi dico sempre ragazzi la pratica è la cosa più importante. Quindi andiamo qui e andiamo a vedere come al solito andiamoci a prendere indici americani e andiamoci a prendere il nasdaq. Andiamoci a prendere il nasdaq con una scadenza di diciamo qui andiamo intorno a siamo a 16 febbraio andiamo circa un mesetto. Ok perfetto anzi andiamo sì qui siamo sulla scadenza mini nasdaq marzo 2022 questi sono i contratti e giugno 2022 attualmente il prezzo è di 13.851. Beh vi faccio vedere che cosa sta facendo il nasdaq andiamolo a vedere qua. NQ e prendiamoci il valore del CME del prendiamocelo di giugno 2022. Vedete che il nasdaq effettivamente sta scendendo parecchio a parte queste ultime due candele belle al rialzo che ha che ha fatto no però il trend è ovviamente un trend in discesa. Ha fatto questo primo impulso ribastista un ritracciamento e poi un secondo impulso ribastista un bellissimo ABCD pattern. Ok quindi diciamo che la mia visione su questo sottostante è non rialzista perché dico non rialzista e tendo a usare sempre questa questa definizione. Beh perché vi faccio capire una cosa guardate vi faccio il grafico del profit and loss ve lo ricordate questo è il nostro grafico del profit and loss quindi noi qui abbiamo il PL della nostra strategia PL e qui abbiamo il il prezzo ok il prezzo del sottostante quindi prezzo fatemelo scrivere almeno lo sapete benissimo ovviamente questo quadrante è il quadrante positivo cioè del guadagno del nostro profit and loss scendendo questo è il quadrante negativo. Noi che cosa facciamo abbiamo detto compriamo o meglio prima vendiamo ad un determinato prezzo questa è la nostra opzione in vendita vendiamo una una opzione e anzi facciamo una cosa vediamo il direttamente quello che andremo a fare e cioè andiamo a fare un un bear call ok quindi vuol dire che la nostra visione non rialzista quindi andiamo andiamo a vendere una call questa è la venduta e questa fatemi cancellare qua vi stavo facendo il bull put che è l'altro vertical spread questa è la venduta e se sta per sell e questa è la comprata metto una B per buy. Ora che cosa succede? Innanzitutto vedete che gli strike sono lo strike A è inferiore rispetto allo strike B no? Il B è la comprata perché abbiamo detto che siamo out of the money il grafico sarà un grafico di questo tipo di profit e loss aspettate cerco di disegnarlo al meglio possibile eccolo qua perfetto questo è il punto di break even no? Cioè dove abbiamo il punto di pareggio dove non guadagniamo ma nemmeno andiamo in in perdita però vedete ci sono due cose importanti cioè questa parte qua che è a un certo punto io cresco di profitto ma poi il mio profitto ha un cap cioè non non ho un profitto illimitato e stesso discorso però per il rischio guardate cioè scendo e vado in perdita ma a un certo punto questa perdita è si ferma ed è diventa costante che cosa succede da questo punto di vista. Qual è la potenziale perdita massima che su questa strategia ho? Allora è la differenza tra lo strike lo strike che abbiamo lo strike che abbiamo venduto meno lo strike che abbiamo comprato meno il credito che riceviamo quella è la nostra massima perdita viceversa il nostro massimo profitto è dato dal credito che riceviamo quando apriamo le posizioni ovviamente ragazzi al netto delle fee le commissioni che diamo al al nostro broker quindi fondamentalmente cancelliamo qua tutto quanto quando è che questa strategia va in profitto immaginiamo che abbiamo andiamo ad impostare una bear call già la parola bear call che cosa vi dice bear vuol dire ribassista call sono le 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 opzioni call e non le put e quindi immaginiamo che noi andiamo a prenderci uno strike faccio per dire questo è lo strike che che andiamo a vendere e questo è lo strike che andiamo a comprare quindi questa è la sell e questa è la buy allora il nostro secondo il profit loss di prima e abbiamo una scadenza diciamo tra i 30 e 45 giorni ricordiamo che noi siamo in vendita quindi tendiamo a guadagnare il tempo è a nostro favore ok perché mano mano che ci avviciniamo alla scadenza il il prezzo arriva allo zero l'opzione non vale più niente e quindi noi incassiamo tutto quanto il premio quindi noi tendiamo a tenderemo a andare in profitto con la nostra opzione se il prezzo rimane fermo quindi se il prezzo rimane in questo range qua noi andiamo in profitto se il prezzo scende ovviamente andiamo in profitto però andiamo in profitto anche se il prezzo sale l'importante è che non vada a toccare la nostra sell in scadenza quindi non si vada a mettere sopra la l'opzione venduto e anche in questo caso andiamo a fare profitto quindi praticamente su quattro movimenti che può fare il sottostante con tre noi andiamo in profitto ecco perché abbiamo un vantaggio statistico che è molto alto no e quindi andiamo qui e torniamo nel nostro all'interno del nostro broker e andiamoci a prendere ora andiamoci a prendere i nostri e andiamo a vedere i nostri strike qua abbiamo detto che vogliamo fare delle call quindi mi vado a guardare solo le call attualmente il prezzo è a 13 e 81 13 e 81 eccolo qua quindi è qui diciamo che mi metto sopra questa ragazzi è solo a scopo illustrativo voglio mettermi intorno a diciamo sopra questa struttura qua dove il prezzo vedete ha avuto un ritracciamento immaginiamo che questa possa essere una resistenza per il prezzo nel caso in cui ci dovesse arrivare quindi arrivare quindi intorno ai 14.400 con il sell torniamo su qua 14.400 o scusate devo scendere giù 14.400 me lo sono dimenticato 400 sì ok quindi andiamoci a prendere eccoli qua li sta caricando eh 200 devo scorrerli ecco qui ok perfetto diciamo che mi prendo il e ovviamente vedete che io qui ho lo strike qui la volatilità qui ho il delta vedete che mano mano che scendo il delta diminuisce il delta ragazzi come vi ho detto ci dice anche quando quali sono le possibilità che la nostra opzione scada senza valore quindi vuol dire che se qui è 0.26 vuol dire che abbiamo circa è un calcolo così empirico l'84 per cento di probabilità che questa opzione vada in profitto quindi quando vendete se il delta è basso è ovviamente a vostro vantaggio quindi io solitamente sto su un delta che è sotto i 0.02 eccolo qua è a 14.600 quindi prendiamoci 14.650 mi si apre la mia schermata abbiamo detto che noi andiamo a vendere andiamo a vendere con un limite volume lascio lascio 1 prezzo limite attualmente il bid è a bid e ask sono 89 e 97 quindi abbiamo un teorico di 95 e 72 mettiamo 94 così vediamo di entrare e a questo punto vendo sono entrato eh ho venduto ok adesso chiudo e vado a mettere vado a salire da 4.650 salgo per esempio allo strike dopo o due strike dopo a 14.750 e questa volta anzi fatemi prima voglio farvi vedere una cosa e andiamo a vedere e andiamo a vedere andiamo a vedere qua sul nostro conto e andiamo a vedere le eh se sono entrate quindi eh trading manuale pendenti pendenti eccolo qui ancora non è entrato eh l'ordine andiamo a cliccare qui e volevo farvi vedere come informazioni qui abbiamo tutte quante le informazioni del nostro eh del nostro contratto e qui e qui e quindi perché andiamo a vedere lo Allora clicchiamo un attimo qui sulla nostra call così vado a cambiare il prezzo perché io voglio entrare immediatamente o il prima possibile, mettiamo 88, invia, ok, modificato, perfetto, è entrata, ok, la volevo far entrare, eseguiti, eccoli qua, quindi guardate, abbiamo, vi faccio vedere una cosa che volevo farvi notare, i margini a garanzia, 8709 euro, questo è il margine che si prende, quindi è un margine grande, perché? Perché per adesso abbiamo solo venduto una call, quindi siamo nudi. Adesso vi faccio vedere, quindi prendiamo, torniamo su opzioni, torniamo su indici USA, andiamo sul mini Nasdaq, andiamoci a prendere, la scadenza era l'8 aprile, se non ricordo male, e fatemela verificare perché non vorrei, 3 di manuale scusate, non vorrei andare a sbagliarmi, aprile 22, week 2 Friday, perfetto, e quindi torniamo su opzioni, andiamoci a prendere gli indici USA, eccola qui, e mi vado a prendere solo le call, questa volta devo vendere, e dobbiamo vendere, a 650 avevo comprato, a 750 andiamo a vendere, giusto perché il delta era 0,15, qui eravamo 0,18, esatto, questa volta faccio acquista, seleziona, limite, 1, prezzo di stop è 68,74, il teorico è 75, mettiamo un secondo 75, di nuovo per entrare, e ti faccio vedere, guarda, clicco qui su margine, disponibilità per operare 39.000, se eseguita questa operazione comporterà un addebito di meno 1.364 euro in premio, e una diminuzione di 7.957 margini di garanzia, quindi ovviamente questo è quello che mi sottrae di premio, meno 1.300, e questo è quello che invece mi toglie di marginalità, bene, andiamolo a mettere in macchina, invio, siamo entrati, perfetto, torniamo quindi su trading manuale, e adesso vedete che qui ho le mie due opzioni aperte, e vedete che la sommatoria del mio profit e loss è la somma algebrica di questo, è in positivo perché dalla vendita della call stiamo guadagnando 79,34 euro, e dalla vendita della call, quindi dall'acquisto scusate, dalla vendita stiamo perdendo 41 dollari, la sommatoria è positiva, ma la cosa interessante è questa, è che il margine c'è stato completamente azzerato, quindi non abbiamo più marginalità, ovviamente vi ricordo il profit e loss, abbiamo limitato il rischio acquistando, ma abbiamo anche limitato il profitto, abbiamo messo un cap, un cappello, alla sell che invece ci permette di avere un profitto illimitato, tanto che si muove il sottostante al ribasso, ovviamente, perché è al ribasso quando vendiamo una call. Bene, direi che per questa strategia è tutto, noi ci vediamo alla prossima lezione, prestissimo, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao! Grazie mille per l'attenzione! Grazie mille per l'attenzione! Grazie mille per l'attenzione! Grazie a tutti.